C'è un prodotto che gli interessano sul loro profilo personale? C'è un prodotto che gli interessano su Facebook per fare promozione. Si fanno trovare da chi li cerca. Facciamo un esempio. Sandra e Andrea sono a casa e decidono di andare a cena fuori. Sandra, per farsi un'idea, cerca su internet dei ristoranti di pesce e visita alcuni siti web di alcuni di questi. L'algoritmo di cuochi di Facebook leggono l'interazione tra il profilo personale di Sara e di siti web con plugin di Facebook che lei visita. Facebook ha capito che Sara cerca dei ristoranti di pesce in una certa zona. Se si sanno utilizzare bene il Business Account Manager ed il Power Editor di Facebook in modo corretto e professionale, e non vi nego che non sia facile, abbiamo studiato tanto e ci aggiorniamo di continuo, si può arrivare a fare una promozione del proprio sito web e della propria azienda spendendo pochissimo e raggiungendo esattamente chi cerca i nostri prodotti. Torniamo a Sandra e Andrea che ora sono arrivati in città. Sandra accende il suo smartphone e apre il suo profilo Facebook. Le appare subito la pubblicità di un ristorante sulla schermata. Lei visita il sito web, prenota la cena e attiva il navigatore per raggiungere la destinazione. La coppia raggiunge il ristorante trovato in rete. Pino gli accoglie soddisfatto della sua promozione fatta con il digital media marketing. Sandra e Andrea si prestano ad effettuare l'ordinazione, contenti di non aver dovuto disperare per cercare un ristorante di pesce. Se è interessato vuoi saperne di più? Contattaci.